Con questa presentazione intendo fornire una breve panoramica della opera di Gabriele D'Annunzio con un'attenzione particolare alla poesia, nello specifico alla poesia di Alcione, questa raccolta che rappresenta sicuramente una delle esperienze più significative nella nostra produzione poetica a cavallo fra 800 e 900. Alcione, lo ricordo, è stata pubblicata nel 1903. Perché D'Annunzio? Perché la poesia di D'Annunzio? Perché senza fare riferimento alla poesia di D'Annunzio, alla sua esperienza poetica sia per quanto riguarda le forme stilistiche, la metrica, la retorica, sia per quanto riguarda le tematiche, si riesce a capire molto molto poco di tutto ciò che è venuto in seguito, che è avvenuto in seguito. La poesia del 900 nasce proprio in relazione ai due grandi modelli italiani del periodo, D'Annunzio da una parte e Pascoli dall'altra. Perché questo? Perché sia che gli autori successivi si conessero in continuità con il modello d'Annunziano, il modello pascoliano, sia che essi invece a questo modello si conessero, in qualche modo lo mettessero in discussione, polemizzassero con esso, per esempio nel caso dei Cripo Scolari, di Gozzano o nel caso di Montale, comunque dalla relazione con D'Annunzio e con Pascoli non si esce, non si sfugge. Sono due personalità troppo grandi, troppo importanti per poterle tralasciare, soprattutto appunto in relazione a quelli che sono stati gli sviluppi successivi della poesia. D'Annunzio e Pascoli sono per certi aspetti ancora autori ottocenteschi, o meglio autori che si pongono al discrimine fra 800 e 900. Quindi forse non è del tutto lecito e del tutto corretto annoverarli fra i poeti del 900, però lo ribadisco, lo ripeto ancora una volta, senza fare riferimento a loro è difficile comprendere tutto quello che è venuto dopo, perché tutto quello che è venuto dopo in qualche modo è in relazione con il loro modello. In questo caso parleremo appunto di D'Annunzio e di questa raccolta, Alcione, che in effetti va ribadito, forse non è del tutto lecito definire raccolta. Fermiamoci un momento sulle caratteristiche formali di Alcione, su certi aspetti tematici e anche su più in generale il gruppo di raccolte poetiche al quale Alcione appartiene. Si tratta delle laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi. Dovevano essere in origine sette, come le stelle della costellazione della Pleiade. Di fatto D'Annunzio compose soltanto Maya o Laos Vite, Elettra, Alcione appunto del 1903. A questi tre libri si aggiungeranno poi in seguito le liriche di Merope del 1912, che comprende le canzoni della guerra d'Oltremare, inneggianti alla guerra di Libia, e poi infine nel 1916, Asterope, gli inni sacri della guerra giusta, secondo D'Annunzio, 1914-1918. Qualche brevissima parola su Maya e su Elettra. Maya è un lungo poema autobiografico, in strofe libere, dedicato in gran parte alla rievocazione del viaggio compiuto dal poeta in Grecia nel 1895. Qui si celebra il superuomo, di cui è simbolo Ulisse. Ulisse che in qualche modo rappresenta la proiezione dello stesso poeta. È un eroe, proteso in un abbandono sensuale ai richiami gioiosi della natura e della terra, alla ricerca inesauribile e instancabile del mondo mitico dell'Ellade. Abbiamo poi Elettra, il libro degli eroi, che è dominata anch'essa, anch'esso, dal tema del superuomo, che ora si allarga e assume una connotazione politica perché si allarga il tema della supernazione. La raccolta infatti comprende alcuni componimenti di carattere nazionalistico, ma presenta anche la collana di liriche delle cosiddette città del silenzio, Ferrara, Pisa, Ravenna, città decadute, di cui si evocano le felicità lontane che ancora aleggiano, come in un sogno, dalle vecchie mura in mezzo dell'oglio. Basti questo. Sottolineo che ciò che ho appena detto non sono parole mie, ma le ho tratte da una sintesi di letteratura italiana che mi sembrava particolarmente efficace per sintetizzare al massimo i contenuti di queste due raccolte. Ammaia segue Alcione. Alcione, vediamo, è una raccolta di liriche? Non necessariamente. Andiamo avanti nella presentazione. Più che una raccolta di liriche, lo potremmo definire, anche se è diviso in varie sezioni, come un poema continuo. Ha un suo andamento narrativo. Che cosa racconta Alcione? Racconta un'estate. Un'estate che d'annunzio, assieme alla donna amata in quel periodo, cioè la grande attrice Eleonora Duse, che appare nella raccolta sotto il nome di Ermione, questa estate che d'annunzio insieme alla Duse trascorre in parte nella sua villa vicino a Firenze e poi sul litorale Toscano, lungo la spiaggia di San Rossore, e l'estate viene raccontata partendo da i suoi primi accenni primaverili, le sue avvisaglie, per esempio nella sera fiesolana, fino al declinare dell'autunno, fino a quando l'estate inesorabilmente viene meno e tramonta. Alcione è composta da 88 liriche, divise in cinque sezioni, ciascuna sezione è scandita, introdotta, da componimenti detti diti rambi, preceduti ognuno da un testo con un titolo in latino. Che cos'è il diti rambo? È una forma della poesia greca, di ispirazione religiosa, intonata da un coro e accompagnata da un flauto durante le processioni in onore di Dioniso. La forma di tirambica viene ripresa già nel Cinquecento, sia in Francia che in Italia, per dare vita a componimenti allegri e vivaci. Ma qui viene ripreso nella sua relazione con la grecità sulla scorta del modello nicciano, del modello del filosofo Nice, il quale lo considerava, lo indicava come il supremo rapimento dello spirito. In questo senso, appunto per rimarcare il carattere dionisiaco della poesia, D'Annunzio lo introduce in alcione per scandirne le varie sezioni, come ho detto sono cinque, e descrivono appunto ogni sezione il progredire dell'estate. Dalla prima, che racconta l'inizio dell'estate, fra primavera avanzata e inizio vero e proprio. Siamo a giugno, per esempio ricordo poesie come Lungo l'Africo, oppure la Sera Fiesolana. Nella seconda sezione, invece dominante, il motivo dell'immersione panica, vedremo poi che cosa significa questo aggettivo, nella natura, la fusione dell'uomo con la natura. L'uomo che diventa natura e la natura che in qualche misura si diventa antropomorfica. L'altro tema importante, quindi collegato a questo, è appunto il motivo della metamorfosi, che comunque è centrale nella sezione terza e quarta. Nella sezione terza si celebra che cosa? La metamorfosi e il trionfo dell'estate nella sua pienezza. Però al tempo stesso, in questa sezione, è già presente il senso del declino, del passaggio inesorabile del tempo. L'estate, nella sua piena maturità, già contiene in sé i germi della fine. E questo lo vediamo, per esempio, in poesie come La sabbia del tempo. Infine, la ultima parte, racconta la fine dell'estate. Ormai sulla Versilia marina si proietta, si avverte, il senso dell'astrove. Viene descritta la morte dell'estate e il suo trasformarsi in autunno. Quindi basti ricordare poesie come Tristezza o Novilunio. Questo per quanto riguarda la struttura generale di Alcione. Ma andiamo avanti. Nella lirica introduttiva, la tregua, il poeta invoca una pausa dalla sua volontà superumana. Una pausa che gli consenta di entrare in comunione con la natura divina. È una pausa dall'attenzione superomistica che era stata celebrata nelle due raccolte precedenti, appunto, in Maya e in Elettra. Ora il superuomo d'Annunziano ha bisogno di una tregua, di una pausa. E in che modo? Attraverso una immersione nella natura. Una sorta di comunione, appunto, con la natura divina. Si immagina che sia tornato il dio Pan sulla terra e si vuole cogliere il segreto misterioso linguaggio di tutto ciò che circonda l'uomo in maniera tale che costui, il poeta quindi, l'io lirico, possa confondersi, mescolarsi, trasformarsi in natura. È quello che accade in poesie come la pioggia nel pineto, come la sera fiesolana, come in meriggio. Tutto ciò ha a che vedere con un impianto di tipo filosofico, perché è presente il riferimento, appunto, alla filosofia di Nietzsche, che è il punto di partenza per D'Annunzio in questa fase, lo sfondo necessario che dobbiamo utilizzare per comprenderlo. Ma da un altro punto di vista è presente anche la grande lezione del simbolismo europeo. Tuttavia, va detto questo, se Alcione celebra il vitalismo panico, da un altro punto di vista, in poesie per esempio come La sabbia del tempo, nella belletta, anche nella stessa Meriggio, si avverte il senso di decadenza, l'idea della morte, della fine di tutte le cose. Si avverte, cioè, quel lato che qualcuno, Salinari, ha chiamato notturno, prendendo spunto da un'opera successiva di D'Annunzio, l'altra faccia del superuomo d'Annunziano, la faccia oscura, quella che appunto dietro al vitalismo nasconde un senso di morte, di fine, se vogliamo anche di fallimento. D'Annunzio D'Annunzio